Salvatore! 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 Questa è la storia di Salvatore e Teresa che oggi si sposano a San Lorenzo non mancate siete tutti invitati al matrimonio di Salvatore e Teresa una sera ienne sotto i sport ti fa una con la zizza grossa alla Madonna e quanto è buona alla Madonna e quanto è buona con il buco Salvatore! 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 Ma che bochiss con questa vespa rossa fanno coppe sotto sta sempre furna vuoi panegli o una pagnotta? una pagnotta Salvatore! 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 No! Vuoi gli spaghetti di olio? Ma... mi ha portato a Teresa la pizza! Ah! Quella è buona quella! E' buona! Vuoi... mangi lì? E' proprio buona! E' proprio buona la pizza buona! E' proprio la carriaca! Ah si! E' tch! 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 unsicomalatavoata! E' tch! E' tch! Gli dichtli sei addurm土! Addurmut! Addurmuut! Addormentato... Grazie per la visione